Cari amiche e cari amici di Barba Sofia, oggi facciamo un po' di filosofia del trash, il cinema trash, il cinema che sapete io amo perché riesce sempre a mostrarci qualche aspetto della nostra società, qualche aspetto della nostra cultura, spesso nascosto, spesso secondario. E poi, lo dico veramente con tutto il cuore, il brutto è bello. Parliamo dunque di Lockdown all'italiana, il film di Enrico Vanzina, il primo film perché Enrico Vanzina è sempre stato sceneggiatore e non dunque regista. I figli di Steno sono stati due dei protagonisti sicuramente della commedia all'italiana insieme a neri parenti. Commedia all'italiana tendenzialmente di basso livello registico ma che puntavano tutto su una loro forza più o meno graffiante nel mostrare usi, costumi, vizi, debolezze della società italiana. Ed è questa un po' la caratteristica della grande commedia all'italiana. Però i fratelli Vanzina e anche i neri parenti, a parte alcune eccezioni, non hanno mai fatto dei capolavori. Ci sono ovviamente film un po' come Il sapore di mare che costruiscono una nostalgia per gli anni 60, che sicuramente creano empatia con gli spettatori. Ci sono altri film che ovviamente si reggono sulla forza comica di Boldi, di De Sica, ne eri parenti in molti casi addirittura con Paolo Villaggio, con Lino Banfi. Dunque ci sono dei film che ci fanno ridere perché hanno la loro forza nelle capacità comiche, nelle capacità attoriali di questi comunque grandi attori cresciuti. Paolo Villaggio e Lino Banfi parliamo di due grandissimi comici. Paolo Villaggio è anche di un grande scrittore, di un genio per me della comicità. Non c'è anche grande, grande penna perché i romanzi di Paolo Villaggio o i testi ironici di Paolo Villaggio sono veramente molto belli, scritti bene. Dunque parliamo già di una letteratura comica, ironica, satirica di alto livello. Per quanto ci riguarda i film appunto dei Vanzina o di Neri Parenti, la maggior parte di essi sono appunto di bassa qualità registica, di bassa qualità nella sceneggiatura, in molti casi anche con attori mediocri, Izzo, ma tanti altri, ad esempio il Ceccarini che loro hanno messo in scena nei loro film di basso livello, ma tanti altri. Anche quando attrici abbastanza buone come Laferilli sono fitte in mano nelle loro sceneggiature uscirono a mio avviso con veramente delle parti mediocri. Però come ho detto in questa anche bruttezza di film ci si può divertire, perché il brutto è bello e perché il brutto può essere divertente. E ci torno sul tema del brutto e torno sul lockdown italiana che sono riuscito a vedere non al cinema, ma per curiosità sono riuscito a guarducchiare un pochettino. Allora, allora, c'è un problema, c'è un problema a monte che vorrei subito affrontare, che vorrei appunto in parte anche liquidare. Il film lockdown all'italiana offende, offende i morti, i morti di covid. Non si può essere così volgari, a parte voglio dire popolare, voglio dire, però l'associazione vuol dire proprio di basso livello, vuol dire essere un po' offensivi, non essere raffinati, rispettori. Non si può essere così volgari nel trattare un tema che ha dato tanta sofferenza agli italiani. Ma di cosa stiamo parlando? Veramente possiamo fare questa critica? Veramente? Il problema non è offendere i morti, non è offendere chi ha sofferto, è offendere il cinema, perché lockdown all'italiana è bruttissimo, è scritto male, è mal recitato e non fa ridere. Ma non si possono fare film eventualmente comici sulle tragedie. E allora Mario Monicelli con La Grande Guerra non si può provare a far ridere. Il problema grande è che Mario Monicelli con La Grande Guerra fa un grandissimo film, Mario Monicelli. Invece Enrico Manzina fa un film bruttissimo, mal recitato, fa un film appunto di bassissimo livello, di sceneggiatura, le battute non fanno ridere, gli attori sono addirittura fuori tempo. Ed Ezio Greggio è uno dei peggiori attori. Non è un attore innanzitutto, era un uomo di sketch, ha fatto il successo nel drive-in di Antonio Ricci, qui facciamo gli auguri di pronta guarigione per il Covid-19, ha fatto il successo come D'Angelo, come Beruschi, va bene? intorno a quest'idea veramente molto fast food di una pubblicità fatta di sketch, fatta di donnine prosperose sui pattini a rotelle, fatta di icone appunto sexy, prosperose come Carmen Russo, ha fatto successo intorno a quel modalità appunto di sketch, di personaggi anche proprio stereotipati, forzati. Ma poi basta, Ezio Greggio non sa recitare, è imbarazzante. Nei film di Ezio Greggio veramente la cosa più bella è la bruttezza con cui recita, con quel tono di voce, con quelle battute tirate veramente di, addirittura è cacofonico, cioè quando parla con quella voce è inascoltabile, non fa veramente ridere. Questo è il problema di Lockdown Italiana, che non fa ridere, che è brutto, che è scritto male, che è recitato balissimo, la stella è inguardabile, va bene, inguardabile nel modo in cui si atteggia, in cui recita, che è anche un'attrice discreta in altri film. Cioè il problema di Lockdown Italiana non è che offende la memoria dei morti o di chi è sofferto per il Covid, il problema di Lockdown Italiana è che è brutto, che è terribilmente brutto, offende il cinema, ma hanno offeso il cinema più volte, i vanzini sono sopravvalutati, i vanzini vanno goduti nel loro fare film brutti in molti casi, con sceneggiature piene di buchi, con personaggi improponibili, con battute trite e ritrite. Non possiamo far passare i vanzini come dei geni, perché un conto sono De Sica, padre, un conto sono Mario Monicelli, questo regista comedia italiana, un conto sono i vanzini, c'è una grandissima differenza. Va bene, la fortuna di vanzini è stata quella di avere degli attori comici bravi, perché i primi, perché De Sica è un grande attore, innanzitutto, Boldi è stato un grande comico, anche in alcune battute, in alcune tempistiche, ed è un bravo attore, poi è sempre della parabola umana di Boldi, ma quanti, io distingo sempre gli aspetti umani, politici, culturale, gli aspettatoriali, la parabola umana di Boldi, le uscite anche in ambito politico, di un qualunquismo, di una demagogia, ma come tanti poi cresciuti sotto il grande albero berlusconiano, cioè di un comunque uomo che a loro ha dato tanto, perché Berlusconi ha regalato soldi, soldi ad attori e registi che facevano film di merda, che recitevano male a un certo punto, anche proprio perché era il padre padrone che teneva a corte. Questo è stato Berlusconi, Berlusconi è un imprenditore diverso dagli altri, un imprenditore che ha voluto a un certo punto essere quasi sovrano, che ha voluto appunto essere circondato da nani, ballerini giganti, va bene, da majorette, da saltimbanco, da gente che poi lo ringraziava, ha dato dei soldi ancora per fare dei film Berlusconi, a un Jerry Cala, bolso, trito, ritrito, che faceva film orribili, torno a vivere da solo, è un film inguardabile, inguardabile, io lo guardo perché è bello, è bello nel suo essere inguardabile, perché dici, no, com'è possibile, ha avuto fuori tempo, un Don Johnson, un Don Johnson veramente ridicolo, e Don Johnson anche a me piace perché spesso è ridicolo, perché ormai è un po' fuori, è un grande attore, Don Johnson, ad esempio della serie Watchmen, nella prima serie, le prime puntate, mi piace tantissimo, anche lì fa il capo della polizia, molto ironico, in Django, quando fa il capo di fatto di un gruppo, del Ku Klux Klan, è irresistibile, ma in quel film è inguardabile. Dunque, lockdown l'italiana, ripeto, non offende i morti, ma offende il cinema, si può parlare con ironia delle tragedie, cavolo, allora la vita è bella? Alla vita è bella, la polemica è stata all'epoca perché si poteva ridere della Shoah, si poteva ridere di un genocidio, ha dimostrato Benigni di fare un film, comunque buon film, molto criticato, discutibile, io non impazzisco per la vita è bella, ma è un film di buon livello, e nessuno ha detto Benigni, a parte la polemica sul genocidio, ah ma no, non offendi, no, gli è stato detto forse non è il caso, è un omaggio, ma che tutti potrebbero non interpretarlo così, o addirittura abbiamo capito di fare un omaggio, ma non si può ridere su quella tragedia, invece altri no, si può provare a ridere, perché è una risata che porta consapevolezza, ma ripeto, Mario Monicelli, quindi cosa parliamo? Allora si può parlare della grande guerra, assolutamente, si può parlare, non si può parlare della guerra nucleare, la guerra nucleare, l'incu della guerra nucleare, allora, lo tostro rumore, con il mitico Peter Seller, storia dell'uomo che aveva la bomba, no, si può assolutamente, il problema è che i banzini sono assolutamente sopravvalutati, e fanno tendenzialmente film mediocre, questo è il problema, la filosofia del trash.